come la rosa, come la rosa stiamo a discoteca? no, stiamo spranti è brutto bacino come abbaffona, zitta, testa bassa 5 romani contro 20 napoletani ah ma ne ha foto? nel video 5 romani contro 20 napoletani li guardavamo tutti uno per uno faccia con l'occhio nessuno che abbassava lo sguardo ma gli ha settato la mano? dove sa dai? ma gli ha stretto la mano si per forza o le bacini ha settato la mano? lo sai perché? no per convenienza mai nella vita giusto c'è ragione bacini per convenienza è paura no? no rega io no oh no rega paura di no perché io sono sicuro no no bacini dico io lo sai perché? quella era una branda però a me mi pareva un cazzo stava un briaco io potevo partire benissimo e domani? su lato si ricorda un cazzo? no no bar castello dai racconta poi ti faccio rivedere così no no rega io gli potevo partire benissimo a quello però mi gli sono battito perché era l'unico che parlava era tranquillo parlava con me e diceva guarda sto coglione stava riferito a quello che stava preso a cordanti capito? c'era un matto no Gianname mi ha detto che è una mignota di Napoli sa di Roma che devi va? gustoso 5 ramos 5 guai hanno messo mezzo i guai la c'è c'è un coglione il torso raga è un guai non vuole me basta finiscilo a rischiare la tarantella pensa in down ma che tarantella ma che te sei in culo? noi siamo di Roma vorremmi guai qual è Roma? 30 euro che c'è? c'è il rischio dovrà la cosa? che c'è la cossione che c'è la cossione? 30 corone 30 corone quanti sono 30 euro? quanti sono 30 euro? vai ora ti faccio un calcolo rapido 30 di... oh cipulani ecco rapido mentale ma ti fa mica col cipulani si mentale manco quando sto lucido lo faccio sono tipo 300 corone ma te ne ti preoccupa ma che 300 corone? sono 12 euro 200 corone 30 diviso 25 no ma che cazzo fai? 30 diviso 25 ma che fai tu sanzo? erano 1200 corone porco teo ma che stai? ho 50 euro si cazzo è uguale noi li pisciavamo ti pisciavamo sopra i soldi 7 e 50 hanno messo in mezzo i guai i guai capito? noi la spavarvi tutti là oh comunque abbiamo morto tutti i compatti schierati uno vicino all'altro qual è il problema? e guarda chi c'era? pure io c'era vabbè non ti preoccupare ma a metto parlavo ma che parlavo parco teo siamo subiti io e Erdandi io e lui si il Valenzi invece non stavo a parlare no? si pure il Valenzi però gli Erdandi si hanno presi due piscali io una branda capito? ma non parco attomo su no ma che cazzo? io ci credo pure il Valenzi quello si ha fatto per M manco si ricorda come si chiama Gianluca Bocca Nera la rosa si chiama ha fatto la storia oh carolai io mi ricordo tutto preciso oh al banco così mo si fa le canne insieme hanno capito così come stava come il banco non ho capito Bocca Nera Tossico la 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 bocca Nera oh ma il professor dei rammolitani cazzo dove stavano? stava uno che ha mai stato Superman è uscito uno che ha mai stato Superman non lo so se era un professore ci hanno detto è un professore vabbè non sti cazzi gli facciamo non c'è problema fatti i cazzi tu ademati tipo praticamente gli hanno detto così però vero? poche parole si si ti è zitto stai a dormire vuoi te knock out un migliaio perché te un migliaio? un migliaio? no un migliaio? knock out? no 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 vabbè non ti preoccupa capito stavano da Superman qual è il problema oh io non ti preoccupa fatti i cazzi tuoi io intanto parlavo con la brand non mi faceva c'ha ragione vai io c'ha ragione questa è un co***e un co***e brava capito che è un co***e allora oh ammetteva comunque si poi mi faceva hai cannetta come c'è 9 grammi a gente facciamo la merce ma merce di che oh la merce di che la merce ma cos'hanno com'è fatta quelli una polverina bianca la monnezza conosco ti chiedo anche ti conosci ma che cazzo ti c'è sto di piscali degli altri ma vabbè una morena ricordanti ti so 40 corone ma ma sai quanti so 40 quanti so 40 corone manco due euro e ci stava quello perché un euro sono 25 corone ma merce vabbè fatti i cazzi tuoi 25 corone sono un euro fatti il calcolo 40 corone sono tipo un euro e 50 allora ti dò 40 coloni quello a merce a merce di che parco dio ma perché 40 corone infatti ma quindi se hai detto il numero a bu fidati andiamo a far macello dei fatti ma che cazzo dice a mirko non mi è stata a calcola se ti è stata a far magello solo vedo no io non te ti non sto a parlando ma che vuoi ti fai a macello baci ma te ti senti realizzato a me sono diverso da voi ok però sto fai io sto di un cazzo ma vabbè ma che te frega se sta a far macello no che cazzo non ci sta nessuno ti dò qualche insegnamento di vita no ti fai insieme c'è il matto ah io ah io visto il danni qual è il problema guardato sotto ma sono muto fatto bene fatto bene calcola ammazzava il danni là perché stava più un periodo di quello contro i campari siamo stavano ancora bene si ma te stai bene o stai male ma io sto te stai preoccupare sto set rosette ho sballato bracci ora stavolatore si hanno sballato no rica sballatore non so che fino a quanto sinceramente simone ha stirato ha stirato sta dormire come un agnellino lo ha zitto come la rosa io ho schiacciato le palle mentre pisciavo capito dal balcone ho pisciato dal balcone mi sono alzato ho pisciato lui ma che poi su sta cosa che si è risultato che si spezza capito stavamo un piedi fuori guarda martina 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 ti ti sei fatto alla giudy tre giorni in stanza mia sta a dormire parco stavamo addio i napoletani i napoletani erano fei matti erano una cifra cacolo sono tre volte se è forte o parliamo se chiaro quanti erano loro erano una svario tutto il corridoio erano venti o no si è svegliato si è svegliato cacola la città oh pure le pischelle e i tarantelli ma i tarantelli che porti prima cosa c'è ma che figa le pischelle ma che figa ci hanno rotta ma non hai visto qualcuno è una macchina dai usate come si metti un attimo i piedi tanti no non mi la faccio vabbè già ho visto questa scena lo so che siamo fatti vabbè forse perché sempre così scusa c'è Martì come ogni santa domenica una mummina ma domani da una balena devi fare la stessa roba che c'ho adesso furio però come l'agnellino come la rosa proprio mi giro raga oh mi sono torte fissing manco mi ricordo dove ho messo perché dovevo che andam a far fisse ma immaginavo tutti oh mentre stavamo al casino tutti facciamo un drink andammo dai napoles andammo 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 pure lui che ho detto che c'era quando io ho detto che c'era l'antonio per la consiglia infiammata e volano a mostri anche capito siamo a noi siamo a cura e poi quando ero sentato e per cantonio è uscito con andate napoloni a menacchie si ha spazzolato ma andiamo a menacchie restare la rossa davanti ma il nuovo orso l'anno scorso non c'era la rossa c'era c'era perché ho due luciano la rossa c'ha due rossi una al culo e una sull'altra gabbà del culo a caso a caso lucia e butti giù c'ha due rossi una al culo e una sull'altra gabbà del culo sto bene la mia mignolata guardate il buon colore del turno guglione guarda come stai io sono ritardato buonanotte a tutti bella raga c'è cinque minuti se vediamo domenica perché sei colpa posta ok ma a casa devi che via con noi bacci fatta una casa dai a tardi bacci allora un po rivenimo tanto eh no che rivenimo no vena mi lascia regalo usare bella apri oh no non so no ma l'ho detto emiliano prima si volevo dire altro nome sono un coglione non so chi voluti forse te voluti dai leva a sto caso ma ti ho fatto due vabbè adesso devo andare a dormire spiegati un po' la luce sia bene